10.000 euro oppure intronatale esci di casa. Queste le parole pronunciate dal reggente locale del clan camorristico Longobardi Beneduce, Nicola Palumbo, ai due legittimi assegnatari di una casa popolare nel rione De Gasperi a Quarto. A Palumbo si era rivolto il vecchio intestatario dell'appartamento che aveva illecitamente subaffittato lo stesso alla coppia per 13 anni, percependo un fitto di 125 euro mensili. Scoperto era stato sfrattato e la casa quindi assegnata agli occupanti, che al contrario avevano tutti i titoli necessari. L'irregolare però pretendeva dai nuovi assegnatari una sorta di buon'uscita del valore di 10.000 euro, vedendosi rifiutare il denaro si era perciò rivolto alla camorra. Questi hanno ignorato le minacce decidendo di denunciare tutto alle autorità, cosa che ha permesso ai carabinieri della tenenza di Quarto due settimane fa di arrestare i tre presunti estorsori, tra i quali proprio Nicola Palumbo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno a Quarto. Questa mattina la Commissione straordinaria del Comune di Quarto ha voluto incontrare i due coniugi. All'incontro erano presenti anche il tenente Leonardo Rosano, comandante della tenenza dei carabinieri di Quarto, il maresciallo Flore, il coordinatore nazionale di OSOS Impresa Luigi Cuomo e il presidente dell'associazione antiracket di Quarto, Mimo Brescia, che da mesi accompagnano le vittime di estorsione nel percorso di denuncia dei fenomeni estorsivi. Alla coppia di coniugi abbiamo espresso la vicinanza e il pieno sostegno dell'amministrazione, rafforzando quella rete sociale di appoggio che è fondamentale per chi ha compiuto questo importante gesto civico. ha dichiarato il prefetto Nicolò a nome della Commissione straordinaria. Abbiamo apprezzato la voglia di riscatto che si è concretizzata attraverso la denuncia, un comportamento che è d'esempio per tutto il territorio e chi diviene stimolo alla denuncia per altre vittime di racket e usura. La Commissione straordinaria ha ribadito alla coppia di denuncianti la propria massima disponibilità ad accompagnarli in questo momento delicato, annunciando anche la costituzione di parte civile del Comune di Quarto nel futuro procedimento giudiziario che vede al momento indagati i tre arrestati.